E sono partiti dalla 1.8, Perena, Pigna Marlos, Siliglio, Ben Cosma, Monte Falcone, Beroni, Gaccioni, Lambrughi. Grande partenza di Monte Falcone, ma vediamo l'arrientro di Siliglio, la borsa agile e leggera anche di Alessandro Siliglio, alla curva, e ancora Siliglio davanti, allora, grande gara con un bel esterno, anche di Mario Lamprugli, e Mario Lampruglia con la base a tutti, Mario Lampruglia, con la base a tutti, Mario Lampruglia, e Siliglio, che ha portato l'arrientro di Siliglio, con la liberatura di Siliglio, e Siliglio, che c'è lì, manca la presenza di Alessandro Siliglio, che è la borsa agile e la borsa agile, che è la borsa agile,